Oggi c'è stato un incidente, uno scontro tra un treno e un tir, purtroppo un macchinista è morto, è una questione di sicurezza? In Italia sicuramente bisogna stare molto attenti al tema della sicurezza, vale sulla sicurezza stradale, sono migliaia di morti ogni anno, vale per quella ferroviaria. Ci sono stati alcuni incidenti anche molto gravi nel passato, si deve fare di più sul tema della sicurezza, come investimenti tecnologici e come anche autorità che vigilano su questo. Oggi è stato un caso tragico dove è morta una persona, altre sono esterite, noi siamo molto vicini a quella persona, ai suoi familiari e ai familiari delle altre persone che sono state coinvolte nell'incidente. Oggi è stato un po' un errore nel senso che sembra di capire che questo camion è entrato dentro al passaggio a livello quando arrivava il treno, per cui non ci sono sicuramente questioni relative alle ferrovie. Magari quando si ragiona anche di strada il senso civico della guida, la responsabilità di chi guida è una di quelle cose su cui noi puntiamo, tant'è vero che vogliamo sviluppare anche tutto quello che è riferito a, diciamo così, l'educazione alla guida. Che guardate, parte dai bambini quando vanno in bicicletta e arriva ai pedoni e ovviamente poi, in questi casi molto gravi, arriva per chi guida autoveicoli.